Il Bari rimedia la terza sconfitta consecutiva e scivola al quinto ultimo posto in classifica, superato da Modana e Spezia. Il Piacenza torna a vincere in trasferta dopo cinque stop consecutivi esterni e rivede la zona a play-off. La squadra avriliana nel primo quarto d'ora è stata al centro della scena. Il Bari, che ha rappresentato i recuperati Santorubo e Carrus nella fase iniziale dell'incontro, è stato salvato dal solito gilet che ha neutralizzato una prepotente conclusione di Olivi. Ancora una prodezza del portiere belga. Il Bari è riuscito a superare la metà campo avversaria ed a rendersi pericoloso dopo la mezz'ora, quando sul lancio di Carrus Santorubo ha avuto un incontro radicinato con Coppola, ma il portiere ha respinto in angolo. Con la evitazione di Carrus il Bari ha mostrato qualcosa in più. Il fantasista ha cercato la conclusione dalla distanza senza fortuna. Al 45esimo il Bari è andato in gol con Fusani, su servizio di Carrus, ma l'arbitro Mazzolini è annullato per un fuorigioco dallo stesso autore delle rete, che forse era tenuto in gioco da Campagnaro. Finisce il tempo ed il Bari si attarda nelle proteste. La ripresa è iniziata con un fallo di Lazzari su Carrus. Lazzari era già stato ammonito e il direttore di gara lo ha graziato. Al secondo momento il Bari si è sbloccato con un lampo di Carrus, esterno destro imprendibile per Coppola. Il Piacenza ha reagito, Lucerino ha avuto una buona possibilità per pareggiare, ma ha sprecato, poi è entrato Simone. Cinque minuti dopo l'argentino ha depositato in rete su punizione da destra. Il Bari ha cercato il successo, Raicic è stato il più attivo in zona tiro, ha insidiato in un paio di occasioni Coppola, che si è salvato anche con l'aiuto del palo. Ma al 44esimo ha giunto il gol decisivo di Degano, anche lui è entrato a partita in corso, una rete che ha galvanizzato Piacenza e ha spinto il Bari sempre più giù. Grazie.